bella a tutti ragazzi io sono draco e qua dopo gli anni siamo ritornati su overwatch come potete vedere dalla schermata e c'è stato un aggiornamento in realtà ce ne sono stati parecchi e c'è la modalità o halloween da brividi e si questa è appunto una modalità che sono tra gli arcade abbiamo avuto anche una ricompensa che molto probabilmente sarà dovuta al fatto che stiamo partecipando all'evento di halloween come vedete abbiamo ci metterà tutte le skin con i personaggi e intanto possiamo guardare le skin quelle nuove e questo mi sa che di video che lo farò uscire dopo è un altro perché non ho ne ancora fatto uscire quello in cui spiego esattamente grazie agli aggiornamenti ci sono stati e soprattutto i rework di di mercy e appunto anche diva e ci abbiamo i modelli ce ne abbiamo la prima che quella dell'anno scorso che logicamente sarà che lo scontato adesso non lo so e poi dopo di che c'è l'ultima uscita che corsara niente di che abbiamo che forza non me e poi c'è l'ultima uscita che è l'ultima uscita che è l'ultima uscita che riposa in pace davanti alla testa è divertente in una maniera pazzesca che rip si dice anche in inglese diva no mi sono confuso e anzo no altre skin sono quelle di torbion che è venuta proprio fuori in quest'ultima si lo so non c'è neanche una di skin cioè io non ho nessuna skin a parte quella che ti danno per aver ad esempio comprato la versione originale vabbè qua abbiamo il vestito di vikingo che molto probabilmente era comparso anche sul fumetto trailer dell'anno scorso mi tendo sul fumetto non sul gioco perché questo è quest'anno come avete visto dalla schermata abbiamo anche no questa è quella dell'anno scorso ed è vampira abbiamo questa 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 non è una roba da overwatch cioè è fuori di testa sta storia poi logicamente tutti si sono chiesti perché hanno fatto una skin così figa del genere per simmetra per simmetra scusatemi non sono abituato con la telecamera altre skin nuove di quest'anno ce l'hanno reaper che ottiene questa se compri la versione origins abbiamo questa che è dell'anno scorso ma soprattutto questa non si è abituati in nessun modo che reaper non abbia qualcosa sopra la testa cioè c'è sempre o appunto l'affare oppure il sombrero ma mai senza niente è stranissimo vederlo così non sembra neanche lui e dopo di che come ultima delle nuove no ce ne sono zaya che c'è in realtà non volevo spoilerami ma ieri notte hanno fatto i nostri mentori di overwatch cioè cioè mentori i nostri i nostri cari tia e company hanno fatto la live che vabbè tia al company perché altri nomi non mi vengono dato che l'unico che conosco è tia appunto di ogni volta questa che per lei è inguardabile e poi c'è lui che c'ha questa dell'anno scorso quest'anno invece eccola qua cosa puoi dire sti cazzi semplicemente non ci sono parole altre skin non dovrebbero essercene dire a livello delle vance no in realtà c'è mi dimentico sempre quelle nei promo quest'anno nei promo c'è lui come la mano che sembra di appunto c'è metallo fuso è una figata ah si è una figata non è una figata questa questa è l'epica di non ho parole vabbè si appunto parlavamo del coso vendetta di junkstein che è appunto la cosa e poi c'è vendetta infinita che appunto sono orde e più praticamente dipende dai record che fai abbiamo anche la stagione che non è devo ancora farla oh merda 16 giorni cazzo e e vabbè e qua quanto siamo ci siamo prolungati non lo so non ho la possibilità di vedere se non dal telefono e un quarto d'ora ci siamo usati quindi vi porterò un video con queste cose strane cioè la modalità arcade con junkstein ah è giusto per chi non lo sapesse hanno fatto proprio una storia sotto con junk junk junkstein che è junkstein rawdog che si vabbè se guardate giocate questo evento lo scoprirete da soli e quindi ci vediamo al prossimo video e bello a tutti non so ne ancora farla sta lei uscita ciao ciao